il festival a 365 gradi è questo ijf io sono mauro casciari saluti cari sì sono in ginocchio qua perché mi inginocchio davanti alle grandi firme del giornalismo che sono qui al festival mi tiro su che dolore non sono più il ragazzo di una volta noi stiamo seguendo il festival e da tutte le angolazioni appunto anche da sdraiati e adesso vi mostriamo in questo quinto episodio che cosa succede in giro per perugia seguitemi ma io sto fermo e quindi non potete seguirmi seguitemi adesso andiamo a vedere i giovani giornalisti in erba e secondo me proprio erba guardate guardate quanta vita loro sono la parte video digital web tv vedete web tv tra l'altro qui consumano più di milano questo questa tavolata ci ha attaccato di tutto e qua giù c'hanno i computer più belli come mai raccomandati raccomandati quindi voi che fate in questa zona più più figa di tutti gli altri qui domani arriva la redazione del fatto quotidiano punti di più sinistri del fatto quotidiano che ci potrebbero scambiare per il giornalista invece noi siamo i tecnici neanche io sono giornalista e neanche tecnico questo problema quindi il cazzo sono lo so qui c'è l'acqua che va ruba anche per la temperatura con tutti questi computer qui è di 45 gradi ma tu c'eri anche l'anno scorso a dare caffè ma sei sempre tema tutti chiudono nell'armadietto qui di fianco e poi risbuchi tu che fai nella vita non farai tutto questo tutto l'anno o sì perché saresti sprecata visto la tua bellezza però purtroppo non posso prendere il caffè perché devo girare col mio nokia lumia questo è tutto un estremo e questo benissimo e così io posso fare il paio ho già preso il kit kat ho già preso i baci perugina ho già preso il lion abbiamo fatto product placement di tutto e per cui abbiamo fatto tutto benissimo andiamo da enel e poi è finita ora più ci si allontana da questo punto e più l'aria diventa respirabile perché ci sono due milioni di persone attenzione va pulita la lente perché io sputo perfetto ciao christopher siamo per il backstage del sito stavolta rispetto a quello di prima stavolta siamo molto più cazzoni you know cazzoni chi sono i cazzoni i cazzoni sono quelli we 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 ma you know because ariana is napolitan come cacchio vi è venuto in mente di fare il festival del giornalismo il coppia di ariana ha detto un giorno in giardino ma che dici di fare un resto del giornalismo e la mia famosa risposta era bellissima idea totalmente irrealizzabile eccoci qua all'ottavo anno visto il risultato di già dei primi due giorni di quest'anno tanta gente ha più doppio del doppio se lui sei in italia quadruplo invece in inglese si dice quadruplo è uguale vogliamo la gola la lingua facendo le lingue questi rumori siani certo e non avete le vocali cioè potta di più mi mani avete più poffa tu ti ci dice un hot water bottle però l'ho trovare botti anche a l'ho trovare bottiglia di connesso si dice che fai ciao c'è un bugio di spazio di spazio dell'ho trovare che stiamo a riapente un progetto di spazio di www.sangos.itoli.itoli.itoli.itoli.itoli.do